La sua accelerazione è straordinaria. Come può tanta energia essere così silenziosa? Mi sento di poter guidare senza confini. Nuovo Honda CR-V Hybrid. L'ibrido che non c'era. Tuo con eco-incentivo fino a 6.000 euro e 5 anni di garanzia a chilometri illimitati su vetture in pronta consegna. Milano. Hashtag Restart. Con Honda Mi Auto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Seregno. Scopri di più su HondaMiAuto.it 0294 756 109